buonasera ben ritrovati una nuova puntata di angoli come sempre inizio con il ricordarvi la mail per comunicare con la redazione del programma angoli chiocciola espansione tv punto it mi raccomando scriveteci perché noi le vostre mail le leggiamo davvero tutte adesso come dire vado a presentare gli ospiti di questa sera e mi faccio un grosso in bocca al lupo da sola perché sono inglesi vengono dagli stati uniti mi fa molta piacere avere qua betty su cantautrice radoslav lorkovic filasomonicista pianista e paolo ercoli dobro ok ce l'ho fatta questa è andata adesso dovrò soltanto parlare in inglese e cercare di farmi capire e tradurre per i telespettatori quindi insomma che dio ce la mandi buona betty su from texas to italy to present your last album i mean when we are gone it's right yes okay and how do you feel oh it's been a wonderful week it's been pretty magical everybody has been so lovely and we've been well fed every day so we've had probably the best food in the world this week ok allora per tradurre ho chiesto semplicemente come si sta trovando lei viene dagli stati uniti dal texas è arrivata in italia e lei come dire si sta trovando benissimo sta apprezzando moltissimo il nostro cibo quindi come dire più che bene ok io direi di non perdere ulteriormente troppo tempo in chiacchiere anche perché il rischio di rovinare la trasmissione però possiamo invece apprezzare assieme qualche canzone so let's listen you one of your song it's a brother who never writes in one a 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 grazie